Sì, grazie Presidente. Ecco, questa interrogazione appunto fa riferimento alle due mozioni citate, in particolare chiediamo quali azioni sono state intraprese dalla Giunta fino adesso per anteperare le richieste a tre mesi di distanza e a un mese di distanza, anche alla luce delle ultime novità che ci sono state in questo ultimo mese, quindi la riattivazione di due procedure di via, una discarica a Montichiari, guarda caso, e una discarica a Passirano. Grazie. Sì, grazie Consigliere. Allora, entrando subito, visto il tempo strettissimo nel merito delle sue richieste, la Giunta regionale ha approvato il 25 luglio scorso con la delibera numero 497 gli indirizzi provvisori inerenti procedimenti relativi al rilascio delle autorizzazioni regionali e provinciali all'installazione e all'esercizio di impianti di recupero e o smaltimento di rifiuti urbani differenziati, considerando l'opportuna indicazione in considerazione del percorso attivato per l'approvazione del nuovo piano regionale dei rifiuti. Quindi è la famosa moratoria che anticipa e dà la possibilità agli uffici già di utilizzare quelli che sono i dati che verranno poi formalizzati con il piano regionale dei rifiuti. Per quanto riguarda invece la moratoria per le discariche, quelle che ovviamente lei ha citato, come sempre entriamo nella famosa discussione tra rifiuti solidi urbani, quindi tra gli RSU e rifiuti speciali. Gli uni, i primi, sottoposti in qualche modo a competenza della regione, in ordine alla quale la regione Lombardia è intervenuta più volte, da ultimo appunto con la DGR che le citavo, i secondi invece completamente sottratti alla competenza regionale e invece regolamentati dalla normativa nazionale e comunitaria che li assoggetta al libero mercato. Quindi per cui non possono intervenire le logiche di autosufficienza o come fattore di limitazione che sono alla base del nostro piano rifiuti regionali. Le due discariche citate, quelle di Boscostella e la Padana Green, sono infatti discariche di rifiuti speciali non pericolosi e come tali ovviamente assoggettate, come le dicevo, alle norme nazionali in materia. Nelle istruttorie di via ovviamente in corso si considereranno tutti gli elementi di impatto sull'ambiente relativamente appunto sia ad ogni elemento specifico quanto al contesto complessivo. Per un breve aggiornamento le dico che quella di Boscostella della 2A appunto è stata riattivata, come diceva lei, nelle premesse della sua mozione e il proponente ha spontaneamente integrato alla documentazione depositata. La Regione Lombardia ha invitato il proponente a trasferire la medesima documentazione a tutti gli enti interessati il 17 settembre ultimo scorso e sta procedendo alla pubblicazione di tutta la documentazione. Gli enti hanno 30 giorni per esprimersi. Le dico però, e questo sono sicura che le interesserà, che il 18 giugno l'ARPA ha espresso parere negativo, c'è stata poi il deposito della documentazione aggiuntiva a luglio e agosto e la richiesta di aggiornamento appunto dicevo del 17 di settembre, l'ARPA ha riconfermato parere negativo il primo di ottobre. So che questa cosa la renderà felice. Per quanto riguarda Padana Green invece il proponente ha richiesto il 9 agosto, come diceva giustamente lei, la riattivazione delle procedure sospese in attesa del rilascio dell'autorizzazione di cava. Sostanzialmente appunto il 9 agosto c'è stata la distanza di riattivazione e il 10 di settembre c'è stata la comunicazione da parte della provincia di Brescia del superamento dei motivi ostativi e quindi la convocazione del sopraluogo istruttorio che si è tenuto il 25 di settembre. Venendo poi all'altro punto, la giunta regionale, quindi in particolare ovviamente il mio stesso lato, si è impegnata nell'approvazione del piano regionale della gestione dei rifiuti previsto dal decreto legislativo 152 del 2006. Il decreto legislativo stabilisce che i piani regionali debbano prevedere i criteri per l'individuazione da parte delle province e delle aree che non sono idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti. In ordine a questo, già con le DGR del 220 del 2005, una successiva del 2008 e una ancora successiva del 2009, la Regione ha definito i criteri localizzativi, individuando le aree escludenti e penalizzanti per la localizzazione degli impianti di trattamento rifiuti. Nel redigendo piano dei rifiuti però, sono state elaborate le linee guida per le province, per l'elaborazione dei propri piani provinciali di gestione dei rifiuti, stabilendo che gli stessi dovranno contenere il calcolo del fattore di pressione a cui ci riferivamo anche poc'anzi nella discussione con il consigliere Rolfi, relativo anche alla presenza di discariche. Da calcolare quindi per ciascun comune, se si ricorda le altre volte quando abbiamo affrontato questa discussione, avevamo messo in evidenza il fatto che d'ora in poi l'unità di misura sarà il comune e non più eventualmente la provincia. Il fattore di pressione, così come è stato formulato, prevede di calcolare a livello di superficie comunale le porzioni di territorio occupate dalle discariche, attribuendo maggior peso alle discariche ovviamente di rifiuti pericolosi rispetto a quelle di non pericolosi o di inerti. Il fattore di pressione quindi sarà uno strumento oggettivo di calcolo che permetterà di ottenere un dato confrontabile per ogni comune all'interno di ogni provincia. Mi sono però, come dicevo già prima, confrontata con gli uffici per valutare in sede di conferenza VAS del piano rifiuti tutti i contributi che perverranno proprio in ordine al fattore di pressione per meglio integrarlo. Quindi noi siamo aperti ad ogni contributo e immagino che ne arriveranno anche da lei e anche dal suo gruppo che si è sempre dimostrato attento in ordine all'argomento. Regione, quando poi tutte le province avranno trasmesso i dati sul fattore di pressione calcolato a livello comunale, con riferimento ovviamente alla nuova programmazione, potrà poi valutare e confrontare le informazioni trasmesse e quindi stabilire quali sono poi i territori comunali maggiormente compromessi. Gli uffici regionali stanno inoltre acquisendo per ogni opportuna valutazione i contenuti dello studio svolto dall'Università di Bologna relativamente all'area di Montichiari che abbiamo sempre detto ben potrebbe essere il simbolo di quanto sia necessario il fattore di pressione relativamente ai rifiuti e alle discariche nella regione Lombardia. Quale contributo all'approfondimento di queste tematiche? Tuttavia, poiché questo studio, come avevamo già detto, rilevato l'altra volta, è uno studio che non è stato effettuato in contraddittorio, se vogliamo metterla in termini giudici, è ovvio che gli uffici stessi si sono riservati poi di approfondirlo e di verificarne in qualche modo il contenuto, ma questo mi pare anche abbastanza naturale, ma su questa cosa avevamo già condiviso la stessa opinione. Ribadisco in particolare per quanto riguarda il fattore di pressione e la possibilità di intervenire, richiamo senza la necessità di ripetermi quanto già espresso in ordine alla mozione precedente del Consigliere Rolfi. Per il punto 2, infatti, quello che volevamo sapere era se vi eravate messi in guardia con l'amministrazione di Montichiari, con gli autori del progetto, se magari avevate pensato qualche incontro per approfondire questo argomento, magari anche con la Commissione Ambiente. Per quanto riguarda una riflessione brevissima sui rifiuti speciali, se la regione Lombardia non può fare niente, a questo punto cosa facciamo? I rifiuti speciali possono arrivare da tutto il mondo qui in Lombardia, ci riempiamo di discariche e quindi basta, prendiamo atto di questa situazione. Penso che un potere politico l'abbiamo anche. Penso che non autorizzare, siccome la regione autorizza l'apertura delle discariche, la regione può non autorizzare le discariche. Grazie. Grazie. Colleghi, abbiamo posticipato un'interrogazione e mezza, nel senso che di una abbiamo posticipato la risposta. Non vedo però in aula l'interrogante Consigliere Parolini per la 1040, quindi prego agli assistenti d'aula di verificare se il Consigliere Parolini è nel foyer.